Non l'hai mai fatta senza il vostro aiuto, ragazzi? Ho perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Borbamamma, camminiamo anche noi come loro? Perché no? Qualcosa al posto degli altri? Temo proprio di Sibo! Amici miei, immaginate un mondo senza più cose divertenti da costruire! Sarebbe così incredibilmente noioso! Sì!